Ancora una volta il tuo ingresso in campo è stato importante, perché su quella fascia hai seminato il panico, hai creato tante occasioni, hai servito l'assist a De Luca che poi ha fallito il gol, però ancora una volta quando entri in campo sei sempre importante e decisivo. Meglio così, oggi era importante vincere a prescindere da chi ha realizzato il gol o meno, era importante dare una risposta alla società ma soprattutto a noi stessi, c'era bisogno di una prova di carattere e penso che sia stata proprio la partita giusta, purtroppo ci siamo ritrovati in svantaggio alla fine del primo tempo, c'è stata una grandissima reazione, questo è quello che dovevamo dimostrare a noi stessi, ci siamo riusciti, siamo felicissimi così. Adesso un lungo riposo che per voi sicuramente può essere importante per ricaricare le batterie, chiedo a te la stessa domanda che ho fatto a Castellini, se vogliamo tirare le somme di questo giorno di andata, quali sono gli aspetti che si possono ancora migliorare e su cosa invece siete soddisfatti per quanto è stato fatto, perché come ha detto il mister, nuove partite in casa, nuove vittorie, c'è stata qualche difficoltà nelle ultime trasferte però in linea di massima 42 punti sugli 51 disponibili credo che è sicuramente un buon bottino. Assolutamente, ci teniamo stretti a questi 10 punti di vantaggio, può sembrare scontato, può sembrare facile vista la forza della squadra ma così non è, le partite poi vanno giocate, vanno vinte, noi penso che siamo riusciti a fare sicuramente molto bene in questo giorno di andata, abbiamo perso dei punti, ci può stare, purtroppo c'è stato lo scivolone di domenica scorsa che non ce lo portiamo dentro ma ripeto dopo una prestazione come quella di oggi sicuramente ci siamo riscattati e prendiamo tutto quello che di positivo c'è, sono i punti, purtroppo nel calcio sono i risultati che determinano il tutto, 10 punti sono tanti e quindi ci teniamo stretti questi punti e facciamo sicuramente le feste un po' più sereni. Perché Andrea mi permetto con te che sei comunque un collante con il passato, esattamente 12 mesi fa arrivava una bruttissima notizia da parte del Tribunale di Catania che dichiarava il fallimento del calcio Catania, adesso si è sicuramente una situazione completamente diversa, cosa possiamo augurare per il nuovo anno ai tifosi rossazzurri dopo tutto quello che abbiamo subito nell'ultimo lustro? Penso che purtroppo questa città a livello calcistico, parlo, è stata praticamente non maltrattata ma qualcosa di più, purtroppo ci portiamo dentro delusioni grandi come quella del fallimento, io penso che ad oggi grazie a questa nuova società si sia tornato a sorridere, ad avere speranza soprattutto nel mondo del calcio per quanto riguarda Catania logicamente, quindi mi sento di augurare a tutti i tifosi, ai tanti tifosi che ho visto piangere quel giorno a Torre del Grifo, finalmente è tornato il sorriso, è tornata la speranza, è tornata la voglia di continuare a combattere e soprattutto l'entusiasmo e quindi auguro buone feste a tutti quanti, finalmente passiamo un Natale sereni e ricarichiamo le batterie in questa pausa che serve a noi come a voi e poi per portare a termine il nostro cammino. Grazie a tutti.